Una giornata di riflessione sulla situazione del paese nel teatro di corte di Palazzo Reale per celebrare i 130 anni del quotidiano il mattino. I sindaci di Napoli e Roma, Manfredi e Gualtieri, raffrontano le loro esperienze alla guida delle due maggiori metropoli del centro-sud. Nel corso della giornata ci sono stati gli interventi di Matteo Salvini e Vincenzo De Luca sul rapporto fra nord e sud, di Elena Cattaneo e Francesca Esposito sulla funzione sociale della scienza, di Dacia Maraini e Maurizio De Giovanni sul ruolo della letteratura nella costruzione di un immaginario nazionale. Non sono contrario all'autonomia però deve essere un'autonomia che garantisce eguaglianza dei diritti in tutte le parti d'Italia perché è chiaro che noi abbiamo un paese che ha grandi divari, divari economici, divari servizi, divari sociali, quindi è lo Stato, noi siamo uno Stato unitario proprio perché dovremmo in teoria garantire diritti uguali, diritti costituzionali a tutti i cittadini. Noi dobbiamo mettere davanti l'interesse delle persone perché veniamo da anni in cui i divari sono aumentati e non sono diminuiti.